E' stato convocato per il 31 gennaio prossimo un consiglio comunale straordinario a Chieti sulla raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara, con l'invito ai vertici di RFI a partecipare insieme al commissario per il progetto e referenti della holding delle ferrovie. Una seduta che si terrà all'auditorium Cianfarani dalle ore 10, aperta ai sindaci di Chieti, San Giovanni Tiatino, Manopello, Alanno, Scafa, i rispettivi consiglieri comunali, i rappresentanti dell'esecutivo regionale, i consiglieri regionali dell'area Chieti-Pescara e i parlamentari abruzzesi e referenti per i territori coinvolti dal progetto. Così come infatti il progetto del raddoppio della Pescara-Roma non piace ai primi cittadini. Non sono contro un'iniziativa in sé dai 6 miliardi di euro, ma cercano una soluzione meno impattante per il territorio. Il presidente del Consiglio Comunale di Chieti, Luigi Febo. Noi abbiamo chiesto e convocato questo Consiglio Comunale straordinario di intesa con le altre amministrazioni. Come avete già visto, noi stiamo facendo un lavoro comune con gli altri sindaci perché pensiamo che dobbiamo superare gli steccati di appartenenza sia dei territori sia della parte politica per mettere invece al centro le esigenze dei cittadini e le esigenze, come dice anche il sindaco di San Giovanni Tadino, della sicurezza e, nell'altro campo, mantenere questo finanziamento che è importante e strategico per la nostra città. Questo però non significa che non bisogna discutere e analizzare il progetto nella sue più piccole parti. Cos'è che non vi va bene di questo progetto? Le parti tecniche poi le lasceremo ai tecnici, ma sicuramente arrivare su un territorio, faccio l'esempio di Manopello e Brecciarola, dove si taglia in due una contrada, una città, dove ci possono essere invece delle alternative valide. Piuttosto penso a Chiediscalo o a San Giovanni Tadino che taglia delle città. Io credo che questo investimento così importante che lo Stato e la Regione ha messo insieme ed è un vanto per noi sicuramente così strategico che però va approfondito nei miei particolari. Voi avete invitato al Consiglio anche rappresentanti di RFI? Sì, assolutamente sì. Loro sono gli attori principali, come il commissario straordinario Macello. Altro punto che non vi piace è la demolizione di manufatti e di edifici. Sì, come dicevo prima, è un'esigenza particolare, quello che dicevo un po' canti, cioè il fatto di andare a tagliare in due contrade piuttosto che paesi, quando ci possono essere alternative, secondo noi, che non siamo tecnici, valide, vanno approfondite in maniera più puntuale e rapide, come dicevamo prima. Noi non possiamo, non vogliamo perdere questa occasione per il nostro territorio. Però, ripeto, va ascoltato l'esigenza del territorio.